Allora, a questo punto io darei inizio al convegno e siccome si parla di terrorismo noi iniziamo anche da vocaboli. Quando è che si può parlare di terrorismo e quando si può parlare di fondamentalismo di matrice slavica? Terrorismo vuol dire infondere terrore nel tuo avversario e bisogna definire chi è l'avversario. Se tu sei un terrorista, vieni definito da chi subisce il tuo attacco, le tue azioni e perché hai creato terrore nella sua popolazione. Se sei diventato, adesso ve lo sintetizzo, l'incubo del buono. Quando tu diventi l'incubo di qualcuno lo fai attraverso un atto terroristico, in fondo di terrore e quindi destabilizzi o metti in condizione l'altra parte delle tue azioni di non essere sereno o di non agire tranquillo. Chi ti incute terrore, fa qualcosa per terrorizzarti, la prima tua reazione non deve essere di scappare ma di continuare la tua vita normale perché non mi hai fatto niente. E quindi la tua domanda, cos'è un terrorista dell'ISIS o un fondamentalista? È una persona che ha deciso di trasferire su il mondo occidentale la sua rabbia, il suo odio, il suo disprezzo. Vi prego di sottolineare la parola disprezzo, più che odio. Il terrorista dell'ISIS è qualcuno che ci disprezza, che vuole impedire il nostro modo di vita, il modo di vivere e il nostro modo di agire. Quindi il terrorista è colui il quale cerca di creare problemi all'organizzazione con cui si confronta o che ritiene nei miti. Ora, a questo punto, io cerco la parola di non andate mai nati e cominciamo a parlare un po' di Nox, per cui adesso affrontiamo proprio la genesi dei Nox, cioè di chi sono nati e quando sono nati. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, cerchiamo di essere brevi e non ne ha nessuno, gli argomenti sono belli, interessanti, grazie a tutti. Il Nox è un acronimo per l'operativa centrale di sicurezza, è il reparto speciale di intervento della polizia di Stato, nato 40 anni, 78 anni nel nostro paese. Prima di fare un piccolo cappello sull'applicazione di reparto speciale di livello europeo, perché il Nox arriva insieme ad altri reparti, prima in Europa non esisteva questa necessità. Nasce, purtroppo, con un'esigenza tragica, che conoscete tutti, penso perché è rimasta nelle coscienze di tutti quanti, il massacro degli atleti israeliani. Un gruppo di terroristi settentrano, che rompe il milagio litico, sequestra dieci atleti israeliani, ne uccide subito uno di tortura, chiede il mando alla liberazione di terroristi palestinesi. Ovviamente, il reparto tedesco si cerca un appoggio in Israele, che non viene dato, il primo ministro da Borda Nero, una donna molto forte, molto dura in questo senso. Gli Zagani propongono di mandare il reparto speciale israeliano, che è un progetto militare, per fare la liberazione di ostaggi. Purtroppo aveva già una cultura abituata a un certo tipo di attentati, quindi erano più strutturali. I tedesco, ovviamente, non accettano questo tipo di intrusione e decidono di fare una sorta di finta liberazione e portare i sequestratori e i ostaggi verso un aeroporto dove preparano un attacco. Un attacco, però, non è preparato, non è strutturato, non viene assolutamente messo in soluzione per un buon risultato. Allora, vengono uccisi tutti gli ostaggi terroristi, catturati e poi liberati traverso il gruppo politico. La realtà qual è? Che l'Europa si trova sguardita di fronte ad attentati o attacchi di questo genere. In Germania si creano immediatamente il GSG-9, un po' speciale intervento che ancora oggi è la teguale internaossi per parte tedesca. In Italia abbiamo qualche anno dopo, però, sulla scorta di qualcosa che già gesteva, che stavano brigati di banditismo, i nomi che incolpivano il banditismo in Sardegna, piuttosto che la realtà abbastanza drammatica e forte, fino a che si arriva al 78, poi anche l'anno del sequestro, l'incisione del tomoro, e con un decreto che la propria missione interna possiga viene creato presso la direzione centrale dell'Antiterraneo, di Sardegna, di Sardegna, di Sardegna, di Prevenzione, il NOx, come divisione con specifici complici di conti di antiterrorismo, ma non in termini investigativi, ma in termini di extrema razza. Un modo di dire l'interno nostro è che quando la polizia non sa cosa fare, la chiama al NOx, quando arriva al NOx non ci viene solo da chiamare, perché effettivamente si è arrivato all'ultimo momento in cui si deve fare l'intervento. L'intervento molto spesso è di tipo anche piuttosto truente, ovviamente se si trova di fronte alla situazione dove non si può fare il passo indietro, e che però ovviamente ha alle spalle mesi e anche tante volte di preparazione e di addestramento portato ai nostri livelli. Questo per non far rischiare ovviamente la vita a chi deve intervenire e anche chi molto spesso si trova sequestrato e che non intervenga un po' liberato. Io vorrei farvi vedere un video di presentazione. Io vorrei farvi vedere un video di presentazione. Grazie a tutti. 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 Buongiorno Quindi se una guerra non può essere santa, comunque questo è. Comunque, chi la vuole combattere ha stabilito che è santa, noi la studiamo di chi la combattere ha stabilito che è una guerra santa. E a questo punto Sharia invece, cosa significa? La Sharia invece è la regola, la serie di leggi coraniche e islamiche che vengono seguite, tra cui in questo mondo di regole si può inserire la Shia. Ora senza aspettare la tua successiva domanda per completare, dirupo il parco, d'altro sempre 5 minuti. Allora, mettiamola in sistema. C'ho la Shi'ad che è la mia guerra santa, mi ispiro alla Sharia, alle regole. Quando c'è il vuoto c'è la fatua. Cosa vuol dire? E questo è il problema più grosso. Ci sono tantissimi imam che sarebbero, voglio mediare i sacerdoti, metteteci i due grossi che volete accanto. Il parco, il parco, il parco, il parco. Sì, diciamo quello che guida la preghiera. No? Che non è, attenzione, qualche volta qualcuno di voi vede quella torre, quello che strilla, quello è il muai zim. Quello che canta i versetti del Torano, ma non è l'imam. L'imam è il capo. Perché un imam può fare... Quando sentite parlare di violent fighters, divideteli con un muro dai matti. Ah. Il violent fighters è uno che va a combattere, ma non ci pensa proprio. Oh, infatti, io qui pure volevo arrivare a capire il video. A martirizzarsi. Sono dei combattenti. Si nasce nel 78, non si nasce nel momento di grave emergenza terroristica. terrorismo interno, anche se parlo già con gli elementi esterni, però in base al terrorismo che degli anni 70, 80, era un terrorismo nostro. Un terrorismo che nasceva all'interno di Fabrica, all'interno di estremamente destra, all'estremamente sinistra. E quindi bisognava combattere, combattere tutto. I primi anni sono tutti dedicati alla lotta e alla sconfitta di questo terrorismo. perché poi nel corso del tempo, grazie al NOx ovviamente, grazie a tutta una strategia che è stata adottata da noi, ci siamo riusciti a far terminare, per gran parte, questo fenomeno o quantomeno la nulla significativa. Quindi c'è tutta una prima fase del NOx che viene indirizzata alla cattura dei terroristi e tutte operazioni antiterrorismo. Però, come succede sempre, morta una situazione dell'arma e nasce seguita un'altra. che dopo entrare in un periodo, che è il polvere esistente quello, altrettanto drammatico di quello che si può dire. Arriviamo adesso, invece, un'altra fase interessante è quella dei giorni nostri, probabilmente degli ultimi in ultimi anni. Oggi abbiamo un po' cambiato, abbiamo dovuto dire iniziato sull'Italia, ma adesso ci siamo seguiti in tutta Europa, tra l'impiego e la riservazione delle parti speciali. Io uso il termine territoriale, territorializzazione, ossia quello che era il dispositivo di alarme, un reparto chiuso nella base, in attesa che succedesse qualcosa e si partisse con un affrontamento, sempre in termini rapidissimi, ma che comportava comunque il minimo taglio di spostamento. È stato, soprattutto sulla città di Roma, che è tanto che guarda l'Italia è il primo punto di alarme, un modificato, già da appena capitolo, prima che succedessero i basi di servizio da Valini. Cioè, ogni giorno io ho una doppia squadra che presidia il centro della capitale, ma non in termini di battugliamento per segno di centro. Cioè, c'è una base al centro di Roma, ci sono auto-printati, sono un equipaggio a bordo, pronto ad intervento operativo, come se dovesse intervenire, quindi con un bot, caschi, mitragliatori, strutture per forzare, fare stradere, per l'accesso agli altri, tutto quello che possa dire, la squadra è già sul territorio, perché si è visto, pochi mesi dopo, quando avevamo dato questo sistema in Francia, che se una squadra sul territorio ha una possibilità di intervenire di 10 minuti, che sono il tempo massimo, quindi che vi è effettuato una strage, che comunque succede l'occhio di tirata. Se si fa oltre, se si deve spostare, se si deve andare in altri contesti, ovviamente abbiamo visto il bateclano, il bateclano è un portato speciale, che è venuto dopo un'ora e mezza, è stata una mattanza, perché praticamente una volta le persone chiuse dentro, uno per uno, mi raccontavano i parodi francesi, venivano proprio giustiziati, e non c'era nessuno che potesse intervenire. C'è stato soltanto un poliziotto che all'interno aveva provato a sparare, e poi si è stato ucciso sul posto, fino a che sono venute le paventi speciali, perché questi si sono andati a tirare di sopra, e poi si sono fatti uccidere, comunque ormai erano le varie alla fine del percorso. Dopo erano iniziati però... Chi è il gruppo solitario? Chi è il gruppo solitario? Chi è l'obiettivo di ricerca dell'arma dei garabagnieri, della polizia, della finanza, della carriera di porto? È la persona che ha un parente nell'area, ha un amico nell'area, ha un'ideologia, questa persona viene ferita, uccisa, imprigionata, e lui si vuole vendicare contro il sistema. Quindi se è capace di usare un'arma la usa, se no poi si può usare la sua macchina, se no prende il coltello. E faccio sempre l'esempio, e in questo è importante le nostre forze, tutto il sistema di sicurezza. Prima sono gli sniper, che a differenza del creatore centro classico della polizia di Stato, che fa un'attività ben inserita in certi parametri, oltre a essere il creatore centro, è anche fornito di particolari sistemi di divisione a distanza, che permettono non... Cioè per te lo sniperaggio non è il cerchino per distanza, che dice qualcuno, è l'anti-sniperaggio, cioè quello che è in grado di neutralizzare uno che a distanza sta uccidendo qualcuno. Quindi lavoriamo in termini opposti. con dei sistemi adesso di puntamento e di regolamento a distanza che permettono a guardare durante la possibilità di fare di sparare centinaia di meni in distanza, coltendo veramente anche la classica moneta, con precisione assoluta. Da ultimo, come specializzazione, inizio è la risolta di che possiamo vederlo assieme, abbiamo poi dei cinofili. I cinofili, in realtà, che ce l'hanno tutti, polizia, i cani del nostro sono cani d'assalto, poi ci sono i cani di uomo, vengono formati e che stanno solo all'inverno del Bernardo, solo... ... 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